Asili nido, mense e trasporto scolastico gratis per le famiglie con uno o entrambi i genitori disoccupati. È la principale novità introdotta dal comune di Teramo a partire dal prossimo anno scolastico. La gratuità delle rette è garantita anche alle famiglie assistite e dai servizi sociali. Resta per tutti i servizi a domanda individuale la tariffazione differenziata per fasce di reddito e le agevolazioni per secondo e terzo figlio, con esenzione totale per chi ha un ISEE inferiore a 8 mila euro. Ci sembra una misura di grande attualità, di sostegno alle famiglie, di risposta a quelle che sono le difficoltà che la società dell'oggi sta vivendo. Del resto un'amministrazione comunale è chiamata senza alcuno slogan ma con la concretezza dei fatti a dare delle risposte in questo senso e a farsi carico di quelle disuguaglianze che purtroppo, di quella forbice sociale che purtroppo quotidianamente va aumentando. Quando ci siamo insediati nel 2018, il servizio educativo del Comune di Termo accoglieva circa 140 bambini con dei pensionamenti del personale docente che avrebbero comportato una drastica riduzione e probabilmente una discesa sotto le 100 unità. Grazie alle misure che abbiamo messo in campo questi numeri sono tornati a crescere, le famiglie hanno creduto a questa amministrazione, hanno creduto a questo servizio ed oggi siamo oltre le 250 unità. La scelta dell'amministrazione è stata possibile anche grazie all'equilibrio nei conti del Comune che approderanno entro marzo nell'assise civica per l'approvazione del bilancio di previsione. Questo è un principio fondamentale, trattare situazioni diverse in modo diverso. Questo significa applicare il principio della solidarietà, dell'uguaglianza, tenere in piedi una comunità in un momento difficile dove l'amministrazione comunale fa una scelta sociale straordinaria, rivoluzionaria, che poi è anche il meccanismo della cosiddetta tariffa puntuale, cioè far sostenere un costo in base al reddito, come la Costituzione ci dice nel principio di progressività, in un momento difficile che i Comuni vivono, soprattutto per quanto riguarda la chiusura dei bilanci con il caro bollette, caro energie.